Dopo domani fortitudo, hai ragione, per fortuna siamo riusciti a recuperare tutti i giocatori. Omasenat si è messo a disposizione stamattina, ha fatto l'alimento con la squadra e speriamo tutti quanti pronti per una sfida straordinaria importante per noi sabato sera. Hai parlato di un calo di concentrazione in settimana dopo le quattro vittorie. Hai rivisto nei giocatori lo spirito che ha preceduto quella sconfitta? Sì, ho parlato perché non mi è piaciuto, ci sta assolutamente perdere. Contro un avversario tosto come è stato Treviso, ma per dare a modo come noi abbiamo perso, subendo 40 punti facili, dopo contro Biede in ribalza in attacco assolutamente non ci sta.